ciao ciao a tutti buongiorno siamo qui io e Tito oggi abbiamo cambiato postazione video perché non riuscivo a liberarmi dalla sua presenza e da quella del cane che adesso è uscito per parlarvi di Roma di Laura Biagiotti è un profumo, uno dei toilettes degli anni 80 ed è stato abbastanza riformulato negli ultimi anni diciamo che è un profumo anche lui iconico nel senso che chi non conosce o non ha mai indossato Roma è un orientale speziato dal 1988 iniziamo dalle note allora prima vi dirò le note del riformulato poi le note della versione prima originale allora nel riformulato troviamo in testa gemme di cassis che dovrebbe essere una sorta di ribes, bergamotto di Sicilia e menta mentre prima oltre a queste note avevamo pompelmo rosa e giacinto quindi sicuramente una maggior quantità di agrumi anche più amarognoli e una parte acquatica data un po' dal giacinto è anche leggermente piccante secondo me un po' speziatina in cuore abbiamo garofano, gelsomino, mughetto e rosa il cuore rimane invariato nel fondo ambra, pacciuli, vaniglia e mirra nella prima versione oltre a queste note nel fondo avevamo sandalo, muschio, muschio di quercia e zibetto quindi note più animaliche e anche più amare allora io quello degli anni 80 scusate è entrato anche il mio cane quello degli anni 80 sinceramente non lo ricordo però devo dire che sicuramente è un profumo oggi come allora molto talcato mi dispiace che siano state tolte così tante note sicuramente è dovuto anche a questioni di riformulazione ifra perché comunque lo zibetto, il muschio di quercia sono tutte note che possono essere utilizzate ma solo di sintesi sicuramente ha perso così leggendo le note una complessità e una profondità che gli davano quel qui di in più io credo perché è un po' dell'amaro del muschio di quercia lo zibetto che dà una parte animalica, il sandalo che è dolciastro, il muschio che gli dà quella nota fresca così come il pompelmo in testa, la parte acquatica del giacinto penso fosse un profumo più complesso, più profondo è anche vero che oggi è considerato un low cost che si trova negli scaffali praticamente delle saponerie, da tigotà, acqua e sapone a prezzi anche abbastanza irrisori questo è un 25 ml mi sembra, sì porte che sbattono ovunque per il vento e costa sui 25-29 euro più o meno il prezzo quello allora, devo dire che ha ancora un'ottima persistenza perché io l'ho portato tutto ieri e poi l'ho spruzzato dopo la doccia per andare a letto e io lo sento ancora adesso sui polsi certo, dopo qualche ora diventa un profumo skin scent quindi non ha quella scia, quella proiezione questo c'è nelle prime 3-4 ore poi diventa un profumo proprio a pelle devo dire che in apertura si sente bene la parte agrumata io sinceramente avrei giurato ci fosse ancora il pompelmo però probabilmente questo accordo tra bergamotto e menta fa emergere questa parte leggermente più amarognola ma fresca si sente subito che c'è questo accordo talcato forte, prepotente emerge fin dalle note di testa e alla fine quindi è un profumo talcato agrumato che rimane però sulla pelle un talcato dolce caldo, avvolgente e ripeto si sente per tante tante ore il flacone è rimasto invariato quindi questa colonna romana diciamo con questo vetro satinato non ho trovato il naso però insomma se qualcuno lo sa me lo scriva sotto nei commenti fatemi sapere se conoscete questo profumo e cosa ne pensate se conoscevate la versione originale e se siete arrivati fin qui lasciate un commento oppure un mi piace scrivetevi al canale ciao un bacio a tutti ciao ciao saluta Tito ciao ciao